Il futuro di Busto e del suo territorio non può prescindere dall'eternità dei valori del suo miglior passato. Il tema forte è inclusione sociale e attrattività del territorio in uno con le piccole e medie imprese del territorio. Manifattura, innovazione, professionalità e grande cabina di regia. E con questo sfruttare il piano di governo del territorio nelle aree di trasformazione, in primis la porta esterna di città malpensa con l'area delle nord.